Ha ripreso a bruciare il bosco nei pressi di San Marco di Preturo, nel comune dell'Aquila, interessato dal tardo pomeriggio di domenica da un incendio. Quando sembrava che le fiamme fossero state domate, per colpa forse del vento e delle alte temperature, il rogo ha ripreso vigore. È stato necessario l'intervento dei mezzi aerei che hanno effettuato vari lanci. L'incendio non è ancora stato domato, ma la situazione è tenuta sotto controllo dai vigili del fuoco, presenti con un presidio. Il comune dell'Aquila, per precauzione, ha deciso di preallertare la popolazione del piccolo paese, che verrà evacuato qualora il fuoco dovesse ravvivarsi e avvicinarsi alle abitazioni. In serata, un altro incendio si era sviluppato in un'altra frazione del comune dell'Aquila, quella di Filetto, ma l'intervento dei vigili del fuoco è riuscito ad arginarlo e spegnerlo prima che si propagasse.